Un bilancio della gara di pistola donne che è terminata con le nostre due atlete Giustina Chiaberto e Susanna Ricci è un bilancio sicuramente positivo. Io e noi siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto, hanno raggiunto il loro obiettivo. Noi avevamo obiettivi tecnici che loro hanno ampiamente raggiunto durante la loro gara. Era una gara difficile, è stata una gara molto simile per entrambe, è iniziata con grande grinta da parte di tutte e due. Era un mondiale quindi ci si aspettava comunque un momento di crisi che è venuto, piccolo, con un pizzico di sfortuna che però poi è stato superato e loro hanno terminato entrambe con due bellissime serie finali. Siamo soddisfatti per la posizione che hanno ottenuto, sicuramente un piccolo rammarico perché un punto in più poteva portare a Giustina Chiaberto alla finale e quindi a poter competere per eventualmente la carta olimpica che era in palio in questa occasione. Siamo comunque soddisfatti, dal punto di vista tecnico sono cresciute molto e per il futuro sappiamo che questa è la strada giusta. Il prossimo anno sarà un anno lungo, impegnativo e sono convinta che comunque loro siano veramente sulla strada giusta per ottenere ottimi risultati. Giustina Chiaberto ha affrontato la gara in modo egregio perché per lei era un pochino difficile l'inizio e è riuscita invece a entrare in gara con grinta e quindi a proseguire anche nel momento di difficoltà con una rimonta. Alla fine ha avuto un pizzico di sfortuna con una serie di qualche colpo dove girava intorno al 10 e però nel 10 non c'era e tante volte un po' di fortuna porta ad avere poi alla fine la marcia in più e magari un punto in più che poteva essere determinante in questa occasione. Susanna invece è ancora molto giovane, ha iniziato da due anni con noi il percorso con i senior, ha avuto una grande crescita, ha iniziato la gara anche lei con molta grinta e ha tenuto fino alla fine in modo soddisfacente. Avrà ancora tanto da fare, sicuramente c'è l'opportunità di limare ancora qualche piccolo particolare nella preparazione e questo sarà l'obiettivo prossimo per entrambe. Grazie. 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 Grazie.